I tifosi legati alla provincia di Reggio Calabria festeggiano in Roccella, salvo con una giornata di anticipo, ma contestualmente restano con il fiato sospeso, attendendo il destino di Palmessa Regina. I neroverdi bloccano la Versa facendo un grosso favore ai cugini della Vibonesi e alla stessa Regina, ma restano ancorati in zona play-out. Gli spareggi per non retrocedere sono aritmetici per i ragazzi ed al Torrione. L'avversario sarà la Leonfortese, da decidere solo la posizione sul piatto, il vantaggio di giocare il match decisivo davanti al proprio pubblico, non una cosa da poco. Punta al miglior posizionamento anche alla Regina che dopo il successo con la Gelbison ha agganciato la Vibonese, staccando due torri ad Aversa Normanna. Se i punti con il rosso-blu di Vibo dovessero restare gli stessi anche dopo gli ultimi 90 minuti di campionato, i ragazzi di Cozza disputerebbero i play-off da quarta in classifica, eventualità possibile, ma non scontata, perché scontata non è la partecipazione stessa agli spareggi. Gli Amaranto si giocheranno tutto a Piraino contro il Due Torri. Per evitare una clamorosa esclusione la Regina dovrà battere i siciliani e sperare che la Vibonese non abbia la meglio sulla già retrocessa Vigor Lamezia. In questo modo la Regina manterrebbe la quarta piazza senza ulteriori preoccupazioni. Al campo il verdetto. Alessio Bonpasso per la CNews24